Cintilla di San Ludovico da Casoria Ora è il tempo di operare, cristiani miei. Che aspettiamo? Quale sarà l'avvenire che a voi giova? Forse l'aspettare il mutamento delle cose. Operiamo noi, amici miei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scintilla di San Ludovico Tutti abbiamo il dovere di ricorrere a Dio che ci aiuti e ci illumini affinché, pur aspettando l'avvenire, ci mettiamo ad operare il bene, facendo opere buone. Opere di carità verso i poverelli di Gesù Cristo, abbracciandoci tutti con un amore cristiano.